I migliori dilettanti d'Italia alla Roma-Perugia per la Coppa Faina. Fra i puri non si fanno complimenti, si scatta subito. Eccone quattro in fuga, filano a rotta di collo con accordo perfetto. Il gruppo insegue senza troppa convinzione e quelli pigiano decisi sui pedali. Sulla salita della Somma i fuggitivi mantengono il vantaggio. Il grosso si impegna, la battaglia è senza respiro. Quelli in fuga vengono raggiunti in discesa e ora in pianura sono in sei, poi in nove. Una gran volata? No, soltanto in quattro a farla. E Aldo Pifferi batte nettamente nell'ordine Pariviera, Cervini e Fontana. Faranno gli azzurri del campionato del mondo. Cornice di strambi cappellini alla vasca centrale della Piscina delle Rose. I bizzarri copricapo celano un tifo d'eccezione. Sono di fronte sui cento stile libero Paolo Pucci, campione d'Europa, e Fritza Dannerlein, primatista europeo a Parfà. Pucci lo vediamo in seconda corsia. Dannerlein in quella in primo piano. I due campioni si impegnano a fondo. Alla virata Pucci prende un lieve vantaggio. Impressionante, quasi irrabbioso il ritorno di Dannerlein, che si affianca all'europeo. Pucci ha i 75 metri, non com'è nel suo stile, aumenta la bracciata. Riacquista ha un corto vantaggio. Tocca per primo. Ma che scherzetto volevi combinarmi? Protesta Paolo su Fritza.